Vorrei solo chiudere gli occhi e che tutto sparisse improvvisamente. La sua gravidanza è un caso molto eccezionale. Intendo dire che i due gemelli sono stati concepiti con due rapporti diversi. Sono due bambini che hanno due padri diversi. E sono fratelli. Sono i miei figli. Sono madri di entrambi.